Siamo allo sport calcio, parliamo di Serie C verso Pescara Perugia, gara in programma lunedì prossimo alle ore 20 e 30 diretta su Rai Sport. Nel pomeriggio di oggi sono rientrati in gruppo sia Brosco che Pellacani, dunque Baldini. L'ex Baldini che domani parlerà in conferenza stampa alle 12 recupera tutti. Il capitano ha superato l'attacco influenzale che ieri gli aveva impedito di allenarsi. L'ex Virtus Verona per la Cania ha pienamente smaltito il lieve affaticamento muscolare al flessore. Altresì recuperati da giorni Tugnov e Vergani. L'attaccante tornerà al centro dell'attacco dopo aver saltato per infortunio gli impegni con Rimini e Pienese. Dovrebbe essere l'unica novità di formazione rispetto all'11 schierato con i Toscani di Prosperi. Domani mattina, come già ricordato, alle 12 conferenza pre-gara di Silvio Baldini. Nel pomeriggio la rifinitura a Silvi Marina. Ben sei defezioni nella Perugia. Marconi, Leo, Viti, Silla, Luis e Dell'Orco. Emergenza in attacco. Assente, come ricordato il senegalese Silla, non al meglio. Seghetti e Montevago per entrambi i problemi alle caviglie. Pienamente recuperati l'esperto Lisi. Il 2005 di maggio è arrivato in prestito dall'Inter. Domani mattina seduta di rifinitura. Il Perugia partirà alla volta di Pescara. Lunedì mattina, probabile formazione. Stema di gioco 3-4-2-1. Gemello tre pali in difesa Mezzoni. Angella, che fu lanciato da Baldini a Empoli in B nel 2008. E Giraudo. Sulle fasce Lex, Cisco e Rintrantelisi. A metà campo il tandem Bartolomei-Torrasi. Tra le linee Ricci e Di Maggio. Alle spalle di Seghetti o Montevago. Dunque ci sono problemi in attacco per il tecnico. Alessandro Formisano che andiamo ad ascoltare. Allora io sicuramente voglio continuare a vedere un'anima. Nel senso che noi affrontiamo una squadra emozionale. Il Pescara è una squadra che ha raccolto tanto in questa prima parte di stagione. Ma l'ha raccolto sapendo anche sfruttare e aspettando gli episodi. Una squadra che vive di emozioni. Allenata bene da questo punto di vista. Perché si vede che è una squadra che è coinvolta. Noi dobbiamo metterci anima. Dobbiamo metterci passione. Dobbiamo metterci unione di intenti. Sono una squadra importante. Costruita bene. Costruita secondo quella che era la volontà del suo tecnico. È partita all'inizio della stagione con un 4-2-3-1. Poi si è reso conto che il vestito più adatto a questa squadra era il 4-3-3. Lo sta facendo benissimo. Accompagnano continuamente l'azione i centrocampisti. Lavorano per catena. Sono tutti. Li ricercano l'uno contro uno. Sono aggressivi. Però come noi sono una squadra che gioca a viso aperto. Non è una squadra che specula sul risultato. È una squadra che si diverte. È una squadra che fa calcio anche per la gioia di farlo. E quindi per noi deve essere bello e motivo di orgoglio affrontare una partita vera.